Il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, è intervenuto per rispondere alle accuse mosse dal segretario nazionale della rifondazione comunista, Maurizio Cerbo, per aver concesso il 27 gennaio, giornata della memoria all'utilizzo della Biblioteca Comunale all'Associazione Culturale Nuove Sintesi. Devo dire che questa autorizzazione è stata data unitamente a un'altra serie di autorizzazioni, ad un'associazione che è abbellante, non solo abbellante, fa una serie di iniziative durante l'anno, di presentazione di libri e quant'altro. È un'associazione che è riconosciuta, anche sedicente, di estrema destra, ma devo dire che io stesso, al momento in cui ho concesso l'autorizzazione, non ho prestato attenzione alle date. Di fatto c'è questa iniziativa, che peraltro è un'iniziativa che riguarda la guerra di Palestina, abbiamo concordato con l'associazione stessa che comunque questa iniziativa sarà svolta in locali privati, quindi non in locali comunali. Io naturalmente non ritengo di dover vietare ad un'associazione o a un gruppo di persone di riunirsi per discutere, a meno che non ci sia, e la Cassazione l'ha stabilito ultimamente, il reato di apologia di fascismo che imporrebbe ovviamente il ricorso all'autorità giudiziaria. Il sindaco Melchiorre si è detto fortemente amareggiato e colpito dalle dichiarazioni fatte dal segretario nazionale Maurizio Cerbo. Il mio pensiero, non soltanto sull'olocausto, ma anche su tutti i temi di sinistra, non possa essere messo in discussione, perché la mia storia all'interno di questo comune, da quando sono sindaco, lo dimostra. Dopodiché, se c'è un partito come il partito della Rifondazione Comunista, che insieme a tutta un'altra serie di partitini è arrivato all'1,4%, io penso che il segretario nazionale di Rifondazione Comunista dovrebbe farsi qualche domanda sul perché ormai così poca gente li segue. Non sono questi temi su cui si può continuare oggi ad interloquire con l'opinione pubblica, perché, benché tutti ci diciamo apertamente e fieramente antifascisti, questo tema dell'antifascismo così posto, così come lo ha posto il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, certamente non fa breccia né nel cuore né nella mente dei cittadini italiani.